Ciao, benvenuto, benvenuta, benvenuta anche a te Marina. Grazie Luca. Siamo pronti per la lezione numero 19. Now before we start, Marina, did you do your homework? I did. Ok, so now you're able to answer me if I ask you ogni quanto. Ok, vediamo, let's see. Marina, ogni quanto cucini? Sempre, cucino sempre. Ok, or? Often? Spesso, cucino spesso. Spesso, perfetto. Ogni quanto vai a correre? Quasi mai. Quasi mai. Say the whole phrase. Vado a correre quasi mai. Mai vuole? Mai once? No, vado a correre quasi mai. Perfetto, ok. Ogni quanto studi l'italiano? Un giorno sì e uno no. Oh, perfetto. Ogni quanto impari qualcosa di nuovo? O, something new? Ogni tanto. Oh no. Un giorno sì e uno no. You said it already? Sì, non me ricordo. Quale? Spesso, you said it. A volte. A volte. A volte, sì. You said it last time or before. Well, so which one went? I don't remember because there were quite many. I don't remember either. Ok, alright. Done. No. Let's say I did you know. Ok, wait, wait. What was that? Spesso. Un giorno sì e uno no. Ah, wait. Every day. How do you say every day? Ah, ogni giorno. Ogni giorno. See, so she did her homework. Yes. I hope you did it too. Bravo. I'm proud of you. And I'm proud of you if you did your homework, which I'm sure you did. Lezione 19. So today we're going to learn the verb of second group. Verbi del secondo gruppo. As we said, we end in ere. Ere. Are, ere. To answer, we, it's from the second group, it's rispondere. Ok? Io rispondo. Tu rispondi. Lui, lei risponde. Noi rispondiamo. Voi rispondete. Loro rispondono. So the difference between the first group, this is the same, the same, not the same, the same, not the same, not the same, not the same. Well, rispondo is like lavoro, rispondi is like lavori, the same, risponde, it's not like lavora, it's not the same, rispondiamo, lavoriamo, it's the same, rispondete, it's not like lavorate, so it's different, and rispondo is not like lavorano, so it's different. Ok. Let's take a look at the endings. O, i, a, er. Iamo, ete, uno. So, let's take a look at some other verbs. Yeah, let's practice a bit to make it clear. Altri verbi in ELEM, ridere, to laugh. What? What should I do to laugh? Try. Rido, ridi, ridiamo, ridete, ridono. Perfetto, perfetto, sì, rido. Vidi, to see is vedere, vedere, io vedo, tu Marina vedi, lui, lei vede, noi vediamo, voi vedete e loro vedono, perfetto. To read, leggere, leggo. How to say I'm reading, I read a book, like, everything. Leggo, so it's legge plus o, which in italiano si pronuncia, we pronounce it leggo. Leggo, leggi, legge. Oh, sì, I'm reading a book. Io leggo un libro. Leggo un libro ogni giorno. Every day, ogni giorno, perfetto. You like? Ogni quanto leggi un libro. Sì, leggo un libro, un giorno sì e uno no. To write is scrivere and to know is conoscere. So now just pay attention to leggere, it's leggo, it's just the pronunciation. Leggo. Leggo, leggo, leggi, legge. Leggiamo, leggete, leggono, again. Mm-hmm. Okay? Okay. So we know all these verbs now. Ridere, to laugh, federe, to see, legger, to read, scrivere, to write, conoscere, to know. So now I think we know pretty much the most common verbs in every language. Well, there's still a third group, but the first two groups are the most important usually. I'm going to teach you the seasons, and after teaching you the seasons, there's a surprise. Okay. So in Italian we have four seasons. Really? Yeah. Yeah. It's the same as in English. Okay. So winter is inverno. Inverno. Don't mistake it with inferno, which is hell. Okay? Inverno. Spring is primavera. Repeat. Primavera. Summer is estate. And fall is autunno. Autunno. Okay. Inverno. Primavera. Primavera. Estate. Estate. Autunno. Autunno. Now, what's the surprise? How to say in winter I... In inverno. In primavera. In estate. In autunno. Uh-huh. 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 Okay? Okay. Sometimes you can hear d'estate, d'inverno, but it depends. But if you say in estate, in inverno, in primavera, in autunno, you're always correct. Uh-huh. Uh, but right now what you want to do is just to listen. So sit back... Without watching. Yeah. Just look at me and listen. I will speak slowly. I will tell you this story. And pretty much everything that is in the story is words or expressions, verbs we covered during the past lessons. So you just have to, you know, practice your listening. Okay. So just sit back, relax, and enjoy, hopefully. Can I sit back and relax, too? Yes. So you sit on the couch and relax. Okay, now I'll see you in the next lezione. I'm gonna listen with you. Benissimo. Iniziamo. In inverno fa abbastanza freddo. Spesso piove. Normalmente non esco. Sto a casa, cucino, bevo il tè, guardo molti film e leggo. Mi piace molto dormire in inverno. In primavera fa abbastanza caldo. A volte piove. Mi piace correre. Mi piace uscire con gli amici. Mi piace viaggiare. L'estate è la mia stagione preferita. È la mia stagione preferita perché? Perché ho sempre molto tempo libero. Fa molto caldo. Quindi vado spesso al mare. E mi piace nuotare. In autunno non è né caldo né freddo. Normalmente lavoro molto. E mi piace leggere. Bevo il tè e leggo. A volte vengono a trovarmi i miei genitori. Allora... That's it. I hope you understood everything. You should be able to understand everything. So you can play it again. So you can rewind and play it again if you want. But if you have any doubts, just check the material. The translation is there. All right? So I will see you next time on Lezione 20. Ciao!